buona dodicesima domenica del tempo ordinario amiche e amici siamo ancora nel capitolo 10 del vangelo di matteo ancora una volta mi soffermo su un passaggio ancora una volta vi faccio notare come è necessario conoscere i testi dei vangeli e bisognerebbe conoscerli proprio a partire dal dal testo più antico che abbiamo a disposizione che è il testo in lingua greca vengo al dunque altrimenti non si capisce quello che io sto tentando di dirvi a un certo punto in questo discorso che gesù fa dove affronta il tema lui più caro che è la tenerezza dell'abbà del padre di dio padre dio abbà la sua tenerezza nei confronti di ogni creatura gesù usa anche questa immagine due passeri non si vendono forse per un soldo eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del padre vostro e del padre vostro perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati non abbiate paura voi valete più di molti passeri ora gesù dice due passeri non si vendono forse per un soldo cioè valgono poco i passeri oggi come allora eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del padre vostro ma la domanda è è dio che vuole che quei passeri cadano a terra tramortiti colpiti dal che ne so dal colpo del cacciatore è dio che vuole che muoiano che cadano a terra che si spenga la loro vita gesù ha appena detto tra l'altro un versetto prima che abbiate paura non di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l'anima cioè non abbiate paura degli uomini abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo chi è è dio è dio che ha il potere di farmi morire nella genna poi cercheremo di capire cosa significa anche questa parola cos'è la genna che significato ha nei vangeli cioè dio usa il suo potere per farmi perire qualora io me lo meriti qualora meriti un castigo da parte sua bella domanda è dio che ha il potere e che ha il volere di far cadere a terra questi due passerotti allora il testo in lingua greca del vangelo di andrebbe alla lettera tradotto così due passeri non si vendono forse per un soldo punto di domanda eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il padre vostro mentre nella traduzione italiana noi leggiamo senza il volere del padre vostro cioè gesù sembra dirci nel momento in cui un passero questa creatura apparentemente insignificante questa vita microscopica nel momento in cui questo passero cade a terra e la vita del passero si spegne tutto ciò non accade senza la presenza di dio padre che è lì a custodire anche quella vita microscopica dio si prende a cuore anche la vita di quei passeri che due passeri si vendono per un soldo cioè niente e poi l'immagine successiva è ancora più forte no per noi che contiamo i capelli del nostro capo perché vanno diradandosi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati cioè dio non dimentica neanche un capello del mio capo perché anche quella forma di vita conta agli occhi di questo creatore che è padre delle sue creature che le ama tutte infinitamente voi valete più di molti passeri la tua vita la mia vita vale agli occhi del padre vale infinitamente e lui avrà cura di me e di te e allora dio l'ultimo dei desideri di dio è che la mia vita perisca nella genna cos'è la genna se andate a gerusalemme potete ammirare anche adesso anche oggi questa valle è una delle degli avvallamenti che c'è nella città di gerusalemme cosa avveniva nella genna ai tempi di gesù c'era la grande discarica i rifiuti la spazzatura l'immondizia veniva buttata lì e suppongo poi venisse tutto bruciato allora dio vuole che la mia vita diventi un cumulo di scorie qualcosa che viene buttato via qualcosa che ha perso completamente il suo valore la sua consistenza la sua durata qualcosa che finisce miseramente dio vuole questo circa la mia vita no non vuole questo la rivelazione biblica ci mette in in connessione in collegamento con un dio che è tenerezza paterna e materna e a me colpisce sempre quanto frequentemente papa francesco richiami questo cioè di non non diventare noi vittime della cultura dello scarto dove noi scartiamo gli altri coloro che magari non ci sono utili non ci sono funzionali per la nostra vita dio non scarta nessuno neanche due passeri neanche i capelli del mio capo è tutto contato è tutto oggetto della sua cura della sua tenerezza e questa cura questa tenerezza deve diventare anche il mio stile di vita buona domenica